Allora, dopo gara tra Lene Nettuno e Fortitudo Fuzz al Pomezia, continua il momento negativo della squadra di Nettuno, ma anche se poi quest'oggi qualcosa da recriminare ce l'ha? Oggi la prestazione non penso sia stata negativa, anzi, abbiamo preso il gol della sconfitta a cinque minuti dalla fine, mi ha scivolato, quello si è trovato lì, pulito, stavo bravo a fare secondo me poi abbiamo sofferto un po', eravamo stanchi, abbiamo fatto un primo tempo difensivo penso di grande livello, una formazione che ha individualità, hanno già tutti in C1, C2 penso punti al campionato, noi abbiamo fatto mezz'ora, abbiamo preso due cose sul calcio piazzato abbiamo detto la nostra, abbiamo sprecato forse all'inizio del secondo tempo l'occasione di fare il 3-2 abbiamo difeso bene senza neanche soffrire troppo, illecito contro la squadra che ci sa giocare a questo sport noi sicuramente siamo in un momento negativo, quattro sconfitte in pareggio, ci manca qualcosa arriva comunque una sosta, una lunga sosta, anche se per voi poi subito dopo Capodanno l'inizio dell'anno tornerete in campo, però c'è la possibilità di poter riorganizzare qualcosa che non ha funzionato? Sì, guarda, secondo me c'è da riorganizzare, da lavorare sicuramente perché quando si perde vuol dire che qualcosa non va però la squadra nelle ultime due partite a dispetto del risultato ha fatto una buona prestazione con il Flora, sono stati episodi a dire che noi dovevamo uscire sconfitti dal campo abbiamo fatto una buona partita, abbiamo sbagliato tanto, l'oportiera parata, loro sono stati cinici e molto organizzati oggi è una partita che si è risorto il fil di lana, potremmo fare con noi, potremmo fare con loro onore all'avversario, ci dobbiamo tirare su, abbiamo 10-15 giorni per lavorare abbiamo le ultime tre partite, spero almeno di ottenere due vittorie per uscire dalla crisi perché questa squadra non merita questo risultato, abbiamo avuto delle assenze rispetto all'anno scorso ma il valore della squadra non si discute e non merita la classifica attuale